Vai 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 Di avvicinarti Scrivate i coltellini Ok c'è Buoni? Ok da dietro devo bazzarlo? Si Colpiamo? Vai colpisci Vai Vai ora vai ora Con lei con lei Allora ragazzi questo video è molto 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 particolare Vi rubo solo due secondi per il video di guardarlo tutto Perché se no poi non capite la fine A fine video ci rivedremo perché devo spiegarvi quello che effettivamente è successo Perché neanche io in quel momento avevo capito cosa stava succedendo Perché è successo veramente un casino allucinante Ragazzi vi ricordo un like per questo video perché è senza parole Io ringrazio tantissimo Aaron, Marci che noia per essere stati con me in questo video Loro canali sono in descrizione Io vi lascio il video Buona visione Ok ok ci siamo vai Pronti Ragazzi sono Jason Me lo sento Ma non è vero non dirne Chi è? Sono io Martini Madonna Allora no aspetta 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 prima di iniziare Non possiamo giocare così Cioè nel senso Sai Jason Cambia Cambia stanza di TS Se no non è giusto Alla fine Però vattene Ciao Ciao Raga ma Visto che Martina È Jason Se provassimo a ucciderla Eh io sono la ragazza che potrebbe avere il maglione sai Eh ok io ho già una mazza qua Proviamo veramente Non è difficile Ti chiamiamo Tommy Jarvis Ok Io sono già con Aaron Aspetta rega c'è un problema prima La maschera dobbiamo togliere Eh sì il pappagallo serve Eh serve il pappagallo sì Porca di quella Ascolta io sto provando ad andare in giro Però Aaron sta venendo Aaron lo ammazza adesso Come ti ammazzano? Eh lo stanno ammazzando Stanno provando ad ammazzarmi Io lo stanno sto qua Ti stanno con la pistola Eh io sto correndo in una casa di un tempo Aspetta Raga vuole uccidermi C'è un troll Ho la benzina rega Che faccio la prendo? No lasciala lì quella cosa Ascolta ma io c'ho il macete Il macete serve a qualcosa O serve per forza il pappagallo? No il macete serve dopo Mi sa che serve per forza O il pappagallo O una roba del genere Cerca un'arma di così Per togliere la maschera A Jason Se no non riusciamo Ho trovato la mappa raga Ho anch'io una mappa buona Perfetto Anch'io la mappa Così possiamo trovare più Sento rumori ragazzi Sento rumori Raga dobbiamo chiamare Tommy Jarvis Dobbiamo chiamare È che non l'ho ancora trovato È nella casa Nella casa S Secondo me Tommy Jarvis Ascoltate io c'ho la mappa Secondo me era Spring Water Camp Raga ma poi che ho trovato L'elica del Ho appena controllato Spring Water Camp C'era un tipo Io ho fatto due case su quattro Penso che l'altro L'avesse visto Ok ok Tommy Jarvis l'ha chiamato Vedi? Premi la M Davvero? Ok a questo punto Perfetto Io ho un pappagallo A questo punto Chi si fa ammazzare Per entrare in Tommy Jarvis? Marci Ok vado io Marci vai tu? È un compito importante Ma c'ho Jason davanti C'ho Jason proprio davanti Raga sto male Eh fatti uccidere Fatti uccidere Fatti uccidere Vado addosso a Jason E non lo vedo più È scappato Jason ammazzami Martina ammazzami Martina dice Ma che cazzo sta facendo Marci Oh io Che male Che malissimo Mi ha ammazzato No 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 Non da me 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 Provo a togliere la maschera Rip Provo? Provo Aspetta Dov'è chi stai Che ti aiuto No 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 Ok coltellino svizzero Coltellino svizzero Porca di quella No 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 Il pappagallo mi serve No no Non mi serve più Il pappagallo Corri 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 via Nel caso di tu Eren Cosa? L'hai tolta la maschera? Eh no Non sono riuscita a colpirla E' ancora lì in zona Cavola 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 Sì è da me 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 Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ok lo vedo anch'io Lo vedo anch'io Tinlo lì Tinlo fermo Sottotiro Che appena si ferma un secondo Provo a colpirlo col cric Io Eh mi sta drippando Eh niente no niente Mi drippla Non ce la farò mai a colpirlo Eh dammi una mano Raga qualcuno sta scappando Ok ok L'ho preso una volta Fisco Ok Raga in due si scappati con la barca Io lo dico Quando sei impicchiato Ma non si butta giù Ohia È immortale No Tinlo un altro colpo Sono morto Un altro colpo io Quindi occhio Raga era più giusto Che si faceva ammazzare Aaron Perché era il maschio Mi sa sto cercando su internet Che c'è più probabilità Quelli è il maschio Dice? Eh ma comunque Devi tornare da ammiggiare Su un certo punto no Due sono scappati comunque Ai 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 Raga Tommy Jarvis Sei Tommy Jarvis Perfetto 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 Allora a questo punto Cosa devo fare? Aaron Tu continua a cercare E togliere la maschera a Jason Io cerco un modo per curarmi E cerco la casa di Jason Ok? Sì Ok il problema è che Non ho l'arma adatta Quindi la dovrò cercare Vieni vieni ce l'ho io Ce l'ho io Vieni a me Vieni a me Mi vedi? La casa dovrebbe essere Sono dove c'è Il ripetitore della polizia Deve aggiustare Presente? Ok si arrivo Ti lo lascio Ti lascio l'arma davanti Ok? Tu stai fermo che arrivo No no L'ho droppata per terra Davanti ci dovrebbe essere C'è il pappagallo davanti lì Lo vedi? Provata lì la maschera Provata lì Sì Ok Io intanto cercherò la casa di Jason Per prendere il maglione Ok bombe Però fammi capire una cosa Ok Vi ricordate come siamo A Camp Crystal Lake Potremmo vedere dov'è a casa No cambia ogni volta cambia Teoricamente dovrebbe essere Verso sud Penso Però che devo curarmi Io non posso andare in giro così Posso giocare nelle stradine a caso io Oddio c'è Jason che sta vicino a me C'è Jason che sta arrivando verso di me Vedo dov'è Scappa scappa E marci Devi prendere l'accetta Devi prendere ti ricordo Non va bene essere quel fucile Eh lo so ma l'accetta la trovo dentro la casa di Di coso Di Jason Ok Io appena ho un secondo per curarmi Vedo Jason ma non ho stamina Gli ho tolto la maschera raga Gli ho tolto la maschera? Gli ho tolto la maschera E' uscito fatti vedere Buono 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 Ok uno spray anche io ce l'ho ce l'ho Perfetto ce l'ho ce l'ho ce l'ho Oh ora posso corre Ok Benissimo Raga la casa di Jason non c'è È a sud è a sud lì Nelle marce per forza lì Non ho sud Però penso ci sia Jason qua sapete C'è Jason da me Boccio Pensi che possa essere tipo a spring water No raga è dove c'è A sud di marce O a sud di marce O a nord nella Nella Aspetta aspetta Ma io sono a sud Non la vedo la casa Allora deve essere E allora è tutta a nord Nella sporgenza quella vicina all'acqua No mi sono fatto il male di nuovo Scendo dalla finestra rotta raga Ok Eren mi serve di nuovo lo spray mi serve Ok L'ho trovata L'ho trovata Dov'è Esattamente a sud Ok infatti Troviamoci la casa di Jason a sud Eren ci sei? Ok vedo credo Marci nella minimappa Quindi provo a raggiungerti Si si ce l'accetta Ce l'accetta raga ce l'accetta Prendi l'accetta Non toccare il maglione Perché se no Va bene Raga occhio Perché ci sono Se non è Jason ci vede Ti va fatta Vieni veloce raga Per favore Sto correndo Si si sta arrivando Si si sta arrivando Sto correndo Solo che sono mezzo di sud Madonna Madonna Devo andare un po' Carponi qua Sto arrivando qualcuno vicino a me Io io sto arrivando Sto arrivando Prendo il maglione Chiriamoci E poi andiamo a cacciare Jason E a me servirebbe anche No serve la cura Veloce veloce Pietro non ti vedo più Dai Pietro Sono qui Sono qui Vai ci sono sentrando in casa Dall'altra parte Sì un trapietro Dai dietro Vai 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 Dai ciao Madonna quanto è lento Sto tipo Tu non hai cure Vero Marci No cammina adesso Cammina Ok vai L'hai preso? No aspetta aspetta Sto prendendo Ok vai Ce l'ho Ho il maglione Lo sei messo Sì mi serve la spray Di Eren Arrivo arrivo Come faccio a dropparti Lo spray Premi Z Z Z Allora vieni Ecco lo spray Ok Mi prendo il macete Ok raga Cominciamo a correre a caso Quindi dobbiamo Trovare Jason Attirare Jason Abbiamo due minuti Per correre a caso Tutti quanti insieme Attirare Jason Raga io sto correndo ancora Oh raga lo vedo Dove è dove è Guardalo qua 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 L'ho visto Dove è Dove è lì nella porta Cosa dobbiamo fare Ok ok Io mi avvicino Appena è vicino Li premo la Q No mi ha beccato Gli do un colpo A quel punto appena in ginocchio Marcio tu devi avvicinarti tantissimo eh Devi avvicinarti Attivate i coltellini Ok c'è Buoni Ok da dietro Devo brazzarlo Si Colpiamo Vai colpisci Vai Vai ora Vai ora Con lei Vai davanti Le premie Marci Marci vai No Raga non posso schiacciare Dovete tirare No Eh non possiamo più Eh raga io sono andato Lai non è venuto a fare niente Mi ha preso Mi ha preso Dove sei Pietro? Sono in casa Io non ho più niente Io in questo momento Ma raga io non posso schiacciare la E in giro Cioè quella E davanti a Cioè fluttuare Pietro Pietro si è buggato eh Ah solo Tommy può freddare Si solo Tommy può farla No ma io c'ho ancora la E Dove sei Marci? Eh io sono andato Eh dall'altra parte tua Meglio dai Ok va bene Si dividiamoci Dividiamoci Quanti secondi abbiamo? Non lo so La trappola sono un cretino Trenta secondi Trenta secondi Trenta secondi Trenta secondi Trenta secondi O uno spray che culo No vabbè Vabbè Hai visto Eren che culo Ti sto aspettando e non ho parole C'era ancora un cassetto non luttato E c'era L'unico cassetto chiuso con uno spray dentro Quanto Eren? Tre secondi raga È fatta No qui 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 Uff Mio dio ti sei tippato di fianco Di fianco era Madonna Di fianco Porca di quella Regà ma che sfiga Ma che cacchio avete combinato ragazzi Ma proviamo a ucciderti Solo che non siamo riusciti Adesso ti vi mando la foto Guarda la Guarda la Ma ti sei buggato? Si si ma abbiamo fatto C'era la iPhone Io ho schiacciato più volte Ma non si poteva fare niente Guardo Allora ragazzi Vi rubo un secondo Perché dobbiamo far carezza su questa cosa Teoricamente Quando togli la maschera a Jason Ti avvicini col maglione Premi Q E lo colpisci un paio di volte Jason si mette in ginocchio In quel momento Tommy Jarvis Può ucciderlo Tommy Jarvis Ricordiamo che era Marci Nel momento in cui Tommy Jarvis Quindi Marci Stava per uccidere Jason Si è buggato il gioco Ok Quindi al posto che far partire L'animazione Figa Dove Tommy Jarvis Uccide Jason Marci ha avuto il pulsante E Sullo schermo Enorme La S era completamente Fottuta come tasto E quindi ragazzi Non siamo riusciti a uccidere Jason Ma per pochissimo Perché Si era messo in ginocchio L'animazione stava per partire E si è buggato il gioco Quindi volevo dirvi di lasciare un like E un commento Se il video vi fosse piaciuto E di passare un minuto di silenzio Per tutti i bug Di questo gioco Ci vediamo al prossimo video Ciao